Lunedì. Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia! Nero è ancora nero. Questa deve essere la morte. Una mano sembra premuta sulle mie palpebre, una mano possente, come quella di Giorgio. La testa fa fatica, stenta a credere ai ricordi che affiorano. È successo. È tutto vero. Finalmente riesco ad aprire gli occhi. Una sola pasticca di farganasse dona un risveglio lucido, scattante. Ma se ne prendi tre, ecco come ti riduce. Il tempo di riacquistare confidenza con me stesso, di confermarmi nome e cognome, l'esistenza in vita. Poi corro con gli occhi a vedere cosa resta dei miei compagni di stanza. Il letto di Mario è stato rifatto, il comodino ripulito. I pochi effetti personali, la bottiglia d'acqua riempita di quella corrente al rubinetto del bagno, tutto sparito. Non sembra nemmeno che Mario abbia vissuto in quell'angolo, che da quella finestra, non più tardi di una manciata d'ore fa, sia precipitato di sotto. Quello era il suo recinto magico. Lì mi ha accolto. Lì parlavamo. Anche il letto sulla mia destra è stato risistemato. Dove sarà, Giorgio? Starà bene. Speriamo riesca a dominarsi, che nessuno lo provochi. Anche il suo angolo non porta traccia né di lui né dell'accaduto. Non so quanto abbia dormito, ma dalla temperatura del tè nella tazza direi che la colazione è passata da parecchio. Saranno almeno le nove, forse le dieci. Sul letto di Gianluca un borsone chiuso, anche il suo comodino è svuotato. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» Lui almeno è rimasto al suo posto, come Alessandro. Qualcuno, forse lui stesso, lo ha riportato alla posizione originale. Ora è di nuovo puntato lì, mezzo metro sopra la mia testa, dove è sempre stato. La porta della sala medici che si apre, ecco tornare in stanza Gianluca, dietro di lui la madre. Mi tiro su dal letto, il farganasse continua a rendere lenti, farraginosi tutti i movimenti. Gianluca fa fatica ad alzare gli occhi da terra. Non porta più i suoi pigiamini corti, tirati su il più possibile, scosciati, per mettere in mostra le gambe pelose. Indossa un paio di jeans attillati, una maglia con la stampa di un gattino preso a leccarsi una zampa. La madre è rimasta sulla porta. Gianluca mi viene incontro. L'abbraccio è veloce, con gli occhi della madre sempre puntati addosso. Si ordina il sorriso, ma il pianto è irrefrenabile, ha uno sforzo sovrumano per parlare. Non mi dì che ci rivedremo. Scrollo la testa. No. Ognuno prende fra le mani il viso dell'altro. Restiamo a guardarci, a incidere nella memoria questo momento. Gianluca si stacca, ci avvia verso il suo letto, afferra i manici del borsone e se lo mette in spalla. Sparisce seguito a un palmo dalla madre. Mi devo rimettere sul letto. Inutilmente mi ordino di resistere. Poi mi domando perché. Mi faccio bucare dal dolore, trascinare via dal pianto. Alla porta un infermiere mai visto nota il mio stato. In sala medici per le dimissioni! Resta a osservare la stanza, sembra interrogarsi. Sì, è proprio qui che è successo tutto. Nella sala dei medici ritrovo Cimaroli, accanto a lui il primario. Come sta Mario? E Giorgio? Mario lo hanno portato al San Camillo stamattina presto. Sta bene. L'emorragia è sotto controllo. Ha una brutta frattura alla gamba destra, lo dovranno operare. Giorgio è al reparto psichiatrico del carcere di Velletri. È il primario a parlare. Cimaroli fa a meno anche di guardarmi. Come al carcere di Velletri? Ha aggredito medici e infermieri. Non potevamo fare diversamente. E Pino? Pino come sta? Ha una costola rotta, rientrerà in servizio quando sarà guarito. I due infermieri ne avranno per una decina di giorni. Negli occhi prendono vita tutti. Quei poveracci di infermieri richiamati qui dalle grida, senza nemmeno essere di questo reparto. Pino, preso a scontare il dolore, con la sua puntuale scortesia, sognando Rossana e tutto quel che non è stato, con il sogno di un banco di frutta che lo liberi per sempre da questo girone infernale. Mario, nella sua camera al San Camillo, immobile, in guerra con i dolori sparsi per il corpo, come se non bastassero quelli di sempre, concentrati nella mente, sotto i ricci disordinati. Lui è il suo tesoro d'umanità da offrire all'universo. Infine Giorgio, rinchiuso in una stanza con le sbarre, a sfarsi di solitudine, a rintracciare sulla spalla lo spazio utile all'ennesimo taglio, l'ultima tacca per ricordare a se stesso e al mondo l'immagine negata della madre, negata come quella di Mario. Bastava farcelo vedere un secondo, il tempo di un saluto. Non sarebbe successo niente. Mi rivolgo a Cimaroli. La rabbia mi brucia sul viso, fino alle orecchie. Con fatica alza i suoi occhi verso di me. Allora, oggi, 20 giugno 94, lei ha concluso il trattamento sanitario obbligatorio richiesto in data 13. Abbiamo avvisato via fax il suo comune di residenza e il tribunale di Velletri della fine del trattamento. Resto fisso a guardarlo. È lo stesso che ieri sera si è infilato sotto un letto, con le mani sopra le orecchie. Prende un altro foglio dalla cartella clinica, si schiarisce la voce. Dagli incontri effettuati e i suoi pregressi clinici, abbiamo ritenuto di dimetterla con una diagnosi di depressione maggiore. La cura farmacologica, come le ho accennato nei giorni scorsi, è a base di paroxetina, un serotoninergico, alla dose di E di 60 mg. Partirà con 20 mg, dopo una settimana passerà a 40, dopo un'altra settimana a 60. Gira verso di me un foglio, mi passa la penna. Firmi qui per le dimissioni. Eseguo. Mi saluti Mancino, lo ringrazi da parte mia. Cimaroli non risponde. Mi richiude nella cartella clinica a mio nome. Per lui sono tutto in quei fogli. Il primario allunga la mano. Gliela stringo. Stia bene. Butto le mie cose nel borsone, alla rinfusa. Nel cuore non c'è più rabbia, ma rassegnazione. Un'amarezza straripante. Dall'armadietto tiro fuori i jeans, la maglietta, ovunque macchie di sangue rappreso. Il mio sangue. I segni della sera folle che mi ha portato qui. Nel bagno ci sono ancora gli effetti personali di Mario, lo spazzolino di Giorgio. Prendo quel che mi riguarda, il sapone e la lametta, gli asciugamani, e butto tutto nel cestino dell'immondizia. Resto a fissarmi allo specchio. Mi ordino la gioia. Tra poco sarò fuori di qui, fuori da questo incubo inutile. Ma non ci riesco. Do un'ultima occhiata al mio comodino, mi piego sotto il letto per vedere anche lì. Qui dentro di mio non c'è più niente. La finestra di Mario è rimasta aperta, come sempre. Mi ritrovo affacciato, ad appoggiare i gomiti dove ieri c'erano i suoi. Sul davanzale ancora i pezzetti di biscotto che aveva messo per il suo amico. Quelli che io stesso gli avevo dato. Il nido dell'uccellino ora è vuoto. Bastava talmente poco. Bastava ascoltare, guardare negli occhi, concedere. Una volta. Una sola volta. Invece non lo hanno fatto. Perché per loro non eravamo degni di essere ascoltati. Perché i matti, i malati, vanno curati, mentre le parole, il dialogo, è merce riservata ai sani. Questo abbrotimento è la scienza. Non aprirsi mai alla pietà, svuotare l'uomo sino a farlo diventare un ingranaggio di carne. Sentirsi padroni di tutte le risposte. È questa la normalità. La salute mentale. La vera pazzia è non cedere mai. Non inginocchiarsi mai. Una settimana fa volevo ammazzare la vita per la sua totale illogicità. Per la certezza che nulla è prevedibile. Che mi tocca in dote la maledizione di vivere senza mai farci l'abitudine. A niente. Al bene come al male. Vivrò da infelice. Prima o poi il dolore avrà la meglio. Ma non siete voi quello che voglio diventare. Dal nulla, con i suoi occhi neri scintillanti. Il passero. Nella sua casa di rami e foglie. Lo saluto anche da parte di Mario. Mi fermo accanto ad Alessandro. Non sono bravo con le preghiere, ma non pecco di fantasia. Che questo bozzolo di silenzio prima o poi si infranga. Che tu possa tornare su questa terra. Libero. Accanto al suo letto c'è Madonnina. Immobile. Preso a osservare nel nulla qualcosa di visibile soltanto a lui. Gli vado vicino. Gli sfioro una mano. Ciao, Madonnì. Afferro il borsone. Un ultimo sguardo alla stanza. Mi affaccio in medicheria. Provo a rintracciare un infermiere. Qualcuno a cui affidare i saluti per Pino, Rossana e Lorenzo. Ma non trovo nessuno. Maria, ho perso l'anima. Aiutami, Madonnina mia. Ritrovo Madonnina lungo il corridoio. Mai ne avrò certezza, ma qualcosa nei suoi occhi, forse solo accesi di mio desiderio, ma lì nel buio di sempre, come un balenio di luce, verso di me. Maria, ho perso l'anima. Aiutami, Madonnina mia. Abbracciare tutto. La puzza durina mischiata al sudore, le ossa consunte, la barba appuntita. Abbraccio tutto di Madonnina, sino alla gloria nascosta, la gioia promessa, sino al pianto che mi fa uomo. Non ho detto a nessuno di venirmi a prendere. Voglio camminare, respirare, starmene all'aria per conto mio. Le gambe faticano, disabituate al loro mestiere. L'enormità di tutto, dallo spazio ai colori, stordisce e innamora. La bellezza conquista gli occhi. Mi fermo per riprendere fiato, per guardarmi giusto un secondo indietro. Dall'alto, dalla punta estrema dell'universo, passando per il cranio e giù fino ai talloni, alla velocità della luce e oltre, attraverso ogni atomo di materia. Tutto mi chiede salvezza. Per i vivi e i morti. Salvezza. Salvezza per Mario, Gianluca, Giorgio, Alessandro e Madonnina. Per i pazzi, di tutti i tempi, ingoiati dai manicomi della storia.